Ciao mondo, oggi sono tornata con un nuovo video tutorial e in questo video appunto realizzerò questo trucco che mi vedete indossare mi piace tantissimo, molto gold, insomma ho usato tantissimo oro sugli occhi, sulle labbra, sull'illuminante, di tutto veramente oro everywhere, brillantini everywhere sono partita da una base già fatta perché è la mia solita base che mi avete visto anche nel vecchio video tutorial e appunto ho utilizzato il Double Wear di Estée Lauder, il Pro Longwear Concealer di MAC e la cipria di Make Up For Ever, l'HD insomma sempre questa, di solito in questo periodo è la mia base, se devi durarmi tutto il giorno questi tre prodotti sono fantastici quindi senza chiacchierare oltre vi lascio al tutorial Grazie a tutti 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 Io vi ricordo che giù in info box ci sono i miei 4 social network, Instagram, Twitter, Su e Snapchat dove potete cercarmi con Gigi Make Up pure direttamente il link in descrizione Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione e vi mando un bacione Ciao Ciao